Giovane ex sindaco che ha affrontato l'alluvione nel 2010, oggi consigliera delegata provinciale, prima esperienza come assessore per l'altra. Elisa Venturini ed Elisa Cavinato sono le due padovane elette in consiglio regionale tra le file della maggioranza. Elisa Venturini è riuscita nell'impresa di far ottenere il 55% dei consensi a Forza Italia nel suo comune Casal Serugo. Una lunga militanza nell'amministrazione pubblica, quindi in quelli che sono i luoghi dove si amministra, sto pensando quindi al comune di Casal Serugo, sto pensando alla provincia di Padova, sto pensando anche all'associazione dei comuni, dove ho avuto modo di fare esperienza, di stare sempre comunque vicino al cittadino, vicino agli amministratori e di applicarmi. In questa maniera uno acquisisce quelle competenze e quelle esperienze che poi possono essere messe a frutto anche a livello regionale. Oltre 6.500 preferenze ottenute grazie ad un impegno che dura da molti anni e che potrebbero farla arrivare anche ad un ruolo da assessore regionale. In votazioni anche regionali come nelle amministrative spesso riesce a prevalere anche la persona al di là del partito. Allora in questo caso a mio avviso è prevalso proprio il lavoro fatto sul territorio, un lavoro umile di presenza, di contatto, di vicinanza alle persone e poi ha premiato anche secondo me i rapporti nell'ambito del volontariato. New entry in consiglio regionale con la lista Zaia presidente Elisa Cavinato, assessore comunale di Vigo d'Arzare. Ho avuto soltanto un mese fa, quindi poco tempo per organizzarla, però è stato veramente emozionante, è stata impegnativa, però la soddisfazione è grande. A me piace stare tra le persone, capire i problemi e cercare di risolverli anche insieme, quindi questo è quello che porterò in regione. La mia esperienza per quanto piccola possa essere, però sarà sicuramente un percorso per me per crescere. Eletta grazie all'onda gigantesca di consensi ricevuta dalla lista Zaia, Elisa Cavinato smorza le polemiche su presunti dissapori all'interno della Lega che si è fermata al 19% dei consensi. Direi che comunque è stata una formula vincente perché alla fine i risultati si sono visti, quindi al di là del fatto che ci siano delle persone che magari possono votare strettamente Lega, comunque siamo tutti un'unica famiglia.